Un limone, dieci limoni, mille limoni. Un limone, dieci limoni, mille limoni. Ciao, creatura. Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cusai, C-E-S-N-R. Allora, l'idea era questa. Io ho un nuovo skateboard, no? Volevo condividerlo con te, anche se l'ho già mostrato su Instagram. Come non lo sapevi? Per chi non mi segue su Instagram, seguimi subito, Ecate Splendente, trovi il link nell'info box. È molto male, creatura. Vedi, non resti aggiornata su tutte le cose fantastiche della mia vita. Così interessante e divina, essendo una divinità. Perché non mi segui su Instagram? C'è anche tu che... Vabbè, dai, per questa volta ti perdono, però prossima volta, mi raccomando. Cioè, adesso... No, prossima volta è un cacchio. Adesso mi segui, capito? Seguimi. Sto aspettando. Hai messo like al video? Ti sei iscritto almeno al mio canale? Cioè, dettagli, già. Ma almeno le cose principali, falle, creatura. A parte gli scherzi. Non stavo scherzando. Lo skateboard nuovo. Volevo togliere la pellicola. Di plastica insieme a te, perché penso che sia un momento davvero magico. e speciale, 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 e molto ASMR. Nell'info box ti metto il link dello skate. Se ti piace, se lo vuoi prendere anche tu. È un'offerta. Magari lo è ancora, e puoi prenderlo anche tu. Questo è decisamente più adatto alle mie dimensioni di piede. Che ho un 41, ebbene, sì. Sono 1,73 e ho un 41 di piede. E questo è perfetto per me. L'altro era troppo piccino. Comunque, te lo faccio vedere, perché davanti è normale, nero. Dietro invece è un disegno. È ovvio. Mi piaceva molto il disegno dietro. Per questo ho preso lui, è mio, è mio, è mio. E tu potresti avere lo skateboard uguale. A te cade splendente, cioè, che onore, che onore, che onore, creatura. Allora, qui c'è un buchetto, però dove sono le forbigiuine, le forbigiuine. Queste sono le mie forbigiuine. Let's go. Mi aspettavo un suono meno scorreggivole. Allora, qui c'è un buchetto, già, già, già lo amo. Allora, qui c'è un buchetto. Dopo lo tiro via meglio, perché adesso sono un po' scomoda, però è stato bellissimo. Ti voglio bene. Ciao. Benvenuto a mio nuovo skateboard. Stupendo, meraviglioso, scintillante. Addio, ansia sociale. Allora. Questo qua è retro, è bellissimo. Sono tipo comics. Mi piace un sacco, sembrano dei doodles. Tipo come degli, tra virgolette... C'è questo filo che mi importuna. Tra virgolette degli scarabocchi, insomma, no? Dei disegni così random. Random, mi piace tantissimo. Totalmente non senso. Come la mia vita. No, 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 non più. Come la tua vita, creatura, se non mi segui. Bellissimo, qui dietro è bello liscio. Invece qua c'è l'antiscivolo. Senti, bello ruvidino. Per permettere a te case di non cadere. E restare bella tesa, tesa, con i suoi piedoni sulla tavola. Non vedo l'ora di girarci. Intanto ci girerò in pista ciclabile. E poi, più amanti, ci girerò per strada. Mi vedrete sfrecciare col mio skateboard. Come un cactus. Chi ha capito la citazione? Ok. Doveva essere una piccola intro questa ad un vlog. Non so se diventerà un video extra o sarà l'intro del vlog. Vedete. Comunque, bellissimo. Ti lascio tutti i link nell'info box, bla bla bla, se c'è tutto. Che poi, tra l'altro, tra l'altro ha queste ruote qui. Ma io, volendo, posso togliere le ruote che si illuminano di quello mini e metterle qua. E fare un mix. Fare tipo bimbo my skateboard. Potrei anche farlo. Adesso vedo. Intanto lo uso così un po' e poi magari lo bimbo. Sono già avanti. Che idee meravigliose che ho. Sono troppo simpatica. Che ne dici, ti piace il mio nuovo skateboard? Fammelo sapere nei commenti. Io ti auguro buonanotte e buon relax. Ciao, creatura. Sono troppo emozionata. Ho deciso di fare queste riprese, una specie di vlog, in questi ambienti che mi davano vibrazioni positive. E questo giorno avevo trovato questo parco con queste foglie gialle, verdi e rosse. e l'ambiente era tutto, non so come sospeso nel tempo, c'ero solo io, pioiva e c'era vento e il vento faceva cadere le foglie. Era tutto così surreale, tra queste foglie cadute a terra, tra questi alberi e ad un certo punto, se guardi bene avanti, c'è come una parte di risa tra foglie rosse e gialle e verdi. Ed era molto strano, ho voluto riprendolo perché era molto particolare, qui sono i miei piedi, io che passeggio. Qui ancora non portavo gli stivali, ed ora invece c'è il scenario di tutto ciò che vedevo nel parco, non lo so, è molto estetico. Qua ero nel viale della stazione dei treni di Rubico, anche qui degli alberi troppo belli, passeggiare qui, è stato molto piacevole. L'ho vissuto per tutto il mese e volevo salutarlo così, insieme a te, perché ora gli alberi sono diversi, le foglie sono cadute così tutte e sono marroni. Invece qui erano marroni, gialle, verdi, rosse, arancioni, c'erano dei colori veramente belli. Questa era proprio la palette che ho vissuto a novembre, la palette di colori, intendo, dell'atmosfera. E questi alberi erano veramente bellissimi, lo sono anche adesso, ma con questi colori erano ancora di più. Qui ho voluto rubare una specie di momento dove c'era un signore con il suo cagnolino e c'erano solo loro due, tra le foglie. Questo parco è molto bello, mi piacciono gli alberi, penso che si sia capito che mi piacciono gli alberi. Non è un segreto, il cielo era tutto completamente bianco, come sempre uomo, più in inverno. E infatti mi faceva un po' sclerare i colori nella videocamera. Purtroppo con i miei occhi era molto più bello, invece in videocamera un po' flippava la luce, non potevo regolarla. E anche questo viale, per andare verso il centro di Rovigo, era molto suggestivo, con queste grandi foglie colorate. Sono bellissimi questi, sono bellissimi gli alberi in generale. Insomma, questo è stato un piccolo modo per me per salutare insieme a te l'autunno che se ne sta andando e salutare, dare il benvenuto a l'inverno che sta arrivando. Così vedremo dei nuovi video super rilassanti, tema natalizio probabilmente, tema invernale. Io ti auguro buonanotte, buon relax, con queste bellissime foglie. Ciao creatura!